Ciao minci di Tariato Games, buon inizio di settimana, lunedì 7 marzo, anche se il periodo non è proprio dei più allegri, felici e gioiosi. Vi avevo anticipato che oggi non avrei fatto il video di mattina, ma l'avrei fatto in giornata, come ho potuto, eccomi qui, sono qui con voi. Prima di vedere le, tra virgolette, novità di Football 2022, che la settimana prossima concluderà questo Preseason Vol. 3, due parole sia su i football e sia su UFL. Per i football non ci sono novità di sorta, ragazzi, ancora Konami è trincerata dietro un assordante silenzio, ieri c'è stato un primo, diciamo, utilizzo commerciale di partnership tra Konami e Napoli, con un Osimen che presentava il match dei Napoli-Milan, non ha portato molto bene agli azzurri, c'era Osimen però con la divisa aggiornata del Napoli, speriamo che arrivi anche nel gioco, prima che la stagione finisca. Per gli UFL, che è un discorso molto più serio, molto più grave, molto più drammatico, purtroppo non abbiamo notizie dal team e da Eugene Nashilov da fine febbraio. Se vi ricordate, due domeniche fa vi avevo parlato del fatto che il team di UFL, che è per grossa parte ucraino, era scappato dall'Ucraina ed era andato verso ovest. Purtroppo da quel giorno non abbiamo più notizie, abbiamo parlato del team di Stalker, due che ha annunciato uno stop dei lavori, però hanno fatto sapere di stare bene qualche giorno fa. Purtroppo per UFL non ci sono novità. Io vi assicuro che non appena Eugene Nashilov o l'account Twitter ufficiale di UFL darà notizie sulla loro situazione, perché in questo momento davvero non possiamo pensare al gioco, ma dobbiamo solo pensare e sperare che stiano tutti bene. Bene, ve le darò qui sul canale. Detto tutto questo, show must go on, anche se è difficile davvero vedendo quello che sta succedendo a non troppa distanza dall'Italia. È veramente una situazione molto, 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 molto pesante e non vado oltre perché, come sapete, non voglio parlare di altri temi. Se ne parla tanto di quello che sta succedendo in Ucraina, non perché non ho la mia posizione, non perché non abbia una sensibilità, ma, come dire, questo è un sito di videogiochi e ha un canale di videogiochi e deve avere come fine ultimo quello di intrattenere. Quindi magari tra una notizia e l'altra drammatica uno viene qui per scoprire un po' di cose nuove sui football, ad esempio, e cercarsi di rilassare un attimo, anche se ve lo dico, anche per me non è facile in questo periodo. È veramente terribile quello che sta accadendo. Comunque, la nuova campagna di football 2022 è National Teams. La terz'ultima campagna, ce ne sarà un'altra giovedì, ce ne sarà un'altra lunedì, per quanto riguarda la Preseason Match Campion, volume 3. Andiamo un po' a vedere. Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Galles, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Italia, Repubblica Cieca, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Austria, Ungheria, Slovenia, Croazia, Romaia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Ucraina, Brasile, Cile, Argentina, Lettonia, Israele, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigianna, Bielorussia, Bosnia e Zegon, Pina, Cipro, Estonia, Israele, Georgia, Islanda, Kazakistan, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldovia, San Marino, Serbia, Montenegro, Gibraltar e Kosovo. Mi sembra che non sia stata inserita la Russia, mi sembra proprio di sì, non credo che sia casuale, sostanzialmente, non mi ricordo se nelle altre campagne c'erano, invece la Germania non c'era un pezzo, ma lì sono questioni diverse di licenza. Condizioni di completamento, punti minimi 3 per la sfida 1, condizioni per la sfida 2, 6, per la sfida 3 punti minimi 9, 10.000 GP per la sfida 1, 10.000 GP per la sfida 2, 10.000 GP per la sfida 3. Tutto come sempre. Ragazzi, io davvero, il mio primo augurio è di poter darvi presto notizie sul team di UFL che non si sentono da un po' di tempo e la cosa certo non mi fa affatto piacere. La seconda è di sapere quando potrà uscire UFL e poi, allo stesso modo, vorrei tanto sapere quando uscirà questo aggiornamento 1.0 perché da qualche giorno a questa parte non solo non arrivano notizie ufficiali, ma neppure indiscrezioni. Silenzio assoluto, ragazzi. Io mi dispiace non potervi dare notizie, neppure indiscrezione, ma c'è un silenzio stombale, davvero, davvero incredibile. Va bene, da domani spero di ritornare a giocare con i football. Oggi è stata una giornata un po' stancante, un lungo viaggio, quindi niente partite. Magari domani spero di riuscire a riprendere, che so che molti di voi apprezzano vedere i miei match, anche se non sono un giocatore di primissimo livello. Cerco di cavicchiarmela e di portare a casa più vittorie possibili. In questo momento è la speranza di arrivare a 40 partite giocate prima della fine della campagna per avere una leggenda in regalo. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio coloro che ieri mi hanno segnalato le notizie sul match day del Napoli in collaborazione con il football. Ringrazio chi oggi si è preoccupato perché non ha visto il consueto video del lunedì mattina. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito. Se siete iscritti al canale potete anche abbonarvi per supportare il canale o se non volete abbonarvi potete fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione che trovate all'inizio della descrizione del video. Se non lo trovate basta che mi girate la richiesta e io ve lo girerò subito nel vostro commento. Ancora grazie per l'attenzione e al prossimo video. Ciao! Grazie.